Elezioni regionali 2024 si voterà il prossimo 10 marzo. Perché votare in ritenno Censi? Perché sono una persona che ha compreso bene il valore dello stare a servizio degli altri e voglio dedicare questo mio appello a tutte le persone che hanno nutrito sfiducia nei confronti della politica e delle istituzioni nel corso degli anni, molto spesso ha ragione. Il 10 marzo andate a votare, si vota in un'unica giornata e vincerà la coalizione e quindi il presidente che riporterà più voti validi rispetto al suo avversario. Vi invito a votare Luciano D'Amico che è il candidato presidente abruzzese, l'unico e se vorrete sostenermi sono orgogliosa di stare a servizio di questa coalizione, basta barrare il simbolo del Partito Democratico e scrivere Innocenzi se ritenete che una persona delle mie caratteristiche sia utile per la collettività all'interno del Consiglio regionale.